un caro saluto a tutti gli amici di planet spin benvenuti a questo nuovo video oggi ci troviamo nuovamente in costiera sorrentina la scorsa volta siamo stati al porto di sorrento oggi invece andremo alla scoperta di qualche nuovo spot in zona con una battuta di pesca spinning in mare grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.